Ecco, oggi ce l'ha raccolta fondi per l'Abbio. Cos'è l'Abbio? Abbio è l'associazione per il bambino in ospedale. Noi siamo volontari che operiamo quotidianamente presso il reparto di pediatria del GOM e prestiamo il nostro servizio in turni mattutuni e pomeridiani per supportare e allietare il periodo dell'adeggenza. Oggi ricorre la ventesima edizione della nostra giornata nazionale che è una giornata dedicata ai volontari per portare in piazza tutto l'orgoglio a Abbio per raccontare a chi non ci conosce quello che facciamo, l'importanza del nostro servizio. In questa edizione, appunto, che è giunta proprio al ventesimo anno abbiamo avuto il piacere di avere anche tantissime persone che ci hanno sostenuto di anno in anno e il supporto alla nostra associazione è sempre più cresciuto perché troviamo consensi in quanto il nostro operato viene valorizzato da quello che noi facciamo. Noi siamo i volontari del sorriso, portiamo gioia, sosteniamo anche le famiglie, i genitori e non facciamo vero solo questo, grazie appunto all'aiuto di chi sostiene i nostri progetti possiamo anche donare arredi per l'ospedale, materiale ludico e quanto possa servire proprio per aiutare i piccoli e anche gli adolescenti che attraversano un periodo difficile quando devono essere ricoverati in ospedale. Quindi basta un piccolo gesto per far sorridere a chi oggi ha bisogno, tanto bisogno. Esatto, esatto. Diciamo che appunto la nostra presenza, oltre ad essere una compagnia ad essere un modo per poter sfogare quelle che sono le problematiche del momento serve anche proprio a contribuire a far sì che il momento del ricovero possa portare con sé anche un ricordo di qualcosa di piacevole e inoltre interagiamo anche con il personale sanitario, medici e infermieri per i quali sono molto contenti della nostra presenza perché supportiamo anche il loro prezioso servizio.